Questi video sono una scuola Ciao a tutti piantofili, benvenuti ad un nuovo video Oggi doveva piovere ma in realtà è venuto fuori il sole quindi sono felicissimo e voglio cogliere l'occasione per farvi vedere le nuove piantine che ho comprato e niente, passare un po' di tempo con voi Piantofili tra l'altro sto notando che un sacco di voi stanno guardando i video senza essere iscritti al canale e non capisco perché non siete ancora iscritti La prima piantina che ho comprato o meglio ricomprato è la Ceropegia Woody o Collana di Cuori Di questa pianta vi ho parlato anche nel video sulle piante ricadenti che se non avete visto vi consiglio di andarlo a vedere Questa è una pianta che io adoro Questa non è variegata quindi come vedete non ha i bordi bianchi o gialli o come li volete identificare voi Mi fa impazzire perché è veramente bellissima Vi faccio vedere come sta crescendo da quando l'ho portata in casa la settimana scorsa Vedete tutte le foglie chiare sono le foglie nuove Tra l'altro è anche in fiore Questi sono i fiori, non aggiungono nulla di particolare alla pianta Da lontano non si direbbe neanche che questa pianta è in fiore Non ho travasato questa pianta e non l'ho fatto perché le radici di questa pianta sono molto molto delicate Almeno per quanto riguarda la mia esperienza E tra l'altro so che solitamente è un prodotto di propagazione per talea E di conseguenza non vedendo radici sul fondo del vaso Ho pensato che in realtà questa pianta è abbastanza felice nella sua sistemazione attuale Tra l'altro sta crescendo così bene che probabilmente non ha bisogno di più spazio La prossima pianta di cui voglio parlare è questa espostoa lanata E questa l'ho comprata perché è da tantissimo tempo che guardo questa varietà Penso che questo venga chiamato anche Einstein cactus o Old Man cactus Proprio perché appunto sembra baffuto quasi Ovviamente questa pianta va considerata per quanto riguarda la mia esperienza come un vero e proprio cactus La voglio travasare in questo vaso Che è diciamo abbastanza generoso per una pianta di questa tipologia Ma ho scelto questo vaso più per l'aspetto che per la sua funzionalità So che è un pochino grande ma voglio utilizzare il mio solito mix per piante grasse unito a della perlite extra Quindi non dovrei avere problemi con il marciume radicale Voglio cercare di fare queste operazioni sopra un vaso Mi avvalgo dell'utilizzo di questo pezzo di stoffa per aiutarmi e non pungermi Come al solito con queste cose cerco di fare più attenzione possibile Perché come potete vedere diciamo che non era particolarmente costretto nel suo vaso E come vi ripeto sempre a me non piace travasare le piante grasse e poi innaffiarle subito Quello che sto facendo è semplicemente liberare un attimino le radici Perché un attimino di libertà in più gli farà sicuramente bene per il suo sviluppo futuro Tra l'altro se volessi a questo stadio potrei anche decidere di separare le varie piante Adesso che abbiamo liberato un pochino le radici voglio anche farvi un appunto Ossia quello che vedo molto spesso è il fatto che i veri collezionisti di questo genere di pianta Tendono a lavare e liberare completamente le radici dal vecchio terriccio Questo sicuramente può essere un passaggio giustificato Dalla volontà di fornire alla pianta un terriccio vergine E tra l'altro un terriccio che si conosce molto bene perché è il terriccio di propria formulazione Potrebbe essere un buon passaggio Io nella mia esperienza non ritrovo che abbia poi fatto la differenza E tra l'altro è un passaggio che può rivelarsi abbastanza complesso Soprattutto quando si tratta di piante piccole e tante piante assieme Disclaimer importante Ovviamente questa è la mia esperienza con questa tipologia di piante Se avete esperienze diverse vi prego anche di inserirle nei commenti Perché comunque possono essere un ottimo luogo per diciamo ampliare il discorso anche in questo senso Ora vado a riempire il vaso col terriccio QB Quanto basta Più o meno centrata Non del tutto ma va bene lo stesso Perché in natura nulla cresce simmetricamente A questo punto non abbiamo ancora finito perché voglio aggiungere anche qualche sasso per coprire questo terriccio Adesso vi farò vedere la differenza ma ve ne accorgerete anche voi Non siate parsimognosi perché in questo passaggio More is more More is anche troppo perché qui sono andati ovunque Vi faccio vedere che differenza ha fatto questo passaggio Molto molto meglio direi Poi ho comprato anche queste onion Sunburst Crestato Bellissimo Guardate la forma del tronco Che praticamente non è come leonium classico Qui ho il mio eonium Questo è un eonium tricolor mi sembra Vedete che il tronco è molto più diciamo longilineo E poi c'è la rosetta in fondo Qui praticamente invece il tronco è tutt'uno Adesso è coperto da qualche foglia che andiamo a rimuovere Una pianta che diventa anche molto grande Tra l'altro gli eonium sono abbastanza resistenti Anche alle temperature più fredde Qui ci vorrebbe una pinzetta Qui vedete sempre le radici tipiche che fanno gli eonium per bilanciarsi Questa è una tecnica molto intelligente della natura Le varietà crestate subiscono praticamente una variazione genetica Per cui poi tendono a sviluppare queste rosette Come se fossero una sopra l'altra O come se praticamente la rosetta da un lato Arrivasse fino al lato opposto Perché tra l'altro quando si vedono le varietà crestate più mature Lì è veramente uno spettacolo Perché si vede un po' la complissità della natura E come la natura diventa un'opera d'arte di per sé Per questa pianta non ho un vaso particolare Infatti voglio solo fare un level up Con un altro vasino di plastica In cui sarà sicuramente più contenta Anche perché se adesso la metto all'esterno Tra qualche mese arriverà il suo periodo di dormienza E non voglio esagerare con lo spazio che le do Una cosa che vi consiglio Quando travasate le piante grasse Quindi se volete seguire il mio consiglio Di non annaffiarle subito Un modo per compattare meglio la terra È quello di sbattere il vaso Quindi praticamente su una superficie Facciamo questa operazione E vedrete che piano piano Nei punti in cui la terra è rimasta meno compatta Si andrà a compattare Quindi potremmo capire se La pianta ha bisogno di un altro livello di terriccio Oppure se ne abbiamo già inserito abbastanza L'ultima pianta che vi faccio vedere È l'ultima pianta che ho comprato purtroppo È questa piccola È severia cubic frost È un'altra di quelle piante che mi piacciono tantissimo Le ceverie in generale Un'altra pianta che faccio un po' fatica a tenere Perché solitamente le ceverie Diciamo tendono ad allungarsi Quindi soprattutto in inverno Può essere difficoltoso Mantenerle al massimo della loro forma Il vaso in cui la voglio inserire È questo vaso qui Sembra quasi praticamente di granito o di marmo Tra l'altro questo è il periodo giusto Per fare questo tipo di operazione Perché come sapete Le ceverie sono dormienti Durante il periodo invernale Quindi travasare un'ecceveria in inverno È proprio una cosa che vi sconsiglio altamente Si può fare Ma andare a disturbare le radici Di un'ecceveria in inverno È un po' come augurarle la morte Questo sempre dal mio punto di vista Per quanto riguarda la mia esperienza Ma è qualcosa che condivido con voi Perché se faccio questi video È anche per evitare che voi facciate Gli stessi errori che ho commesso io all'inizio Qui piantofili quando uno strumento è inadeguato Al compito che stiamo affrontando Dovrei utilizzare un cucchiaino da caffè E sto utilizzando una pala Allora io direi che possiamo essere contenti Ma potremmo esserlo ancora di più Ed ecco voi Il prodotto finito Bellissimo Piantofili che dire Anche per questo video è tutto Spero che vi siate divertiti Quanto mi sono divertito io Io adesso vado a mettere tutte le piantine Nella loro nuova sistemazione Se questo video vi è piaciuto Ricordatevi di mettere un mi piace E se non siete ancora iscritti Ricordatevi di cliccare quel pulsante Che c'è qui sotto Iscrivetevi al canale Per essere sempre aggiornati Su quando pubblico nuovi contenuti Anche per questo video è tutto Da me e dalle mie piantine Al prossimo video Ciao